Nonostante questa tristissima situazione che stiamo vivendo a livello nazionale, cerchiamo di contagiarvi, contagiarvi naturalmente di benessere, facendo tutto quello che possiamo per portarvi a casa vostra in fitness, a più di un metro sicuramente di distanza. Anche le palestre in tempi di coronavirus diventano smart. Sui social network, quasi quotidianamente, lezioni e tutorial tengono compagnia a tutti gli abbonati e a chiunque voglia mantenersi in forma rispettando l'hashtag IoRestoACasa. Prendiamo la nostra posizione, separiamo i nostri talloni, pieghiamo le ginocchia, spingiamo giù le spalle, spingiamo davanti il nostro bacino, inspiriamo. La catena palestre Torino propone sulla sua pagina Facebook ufficiale il Virtual Workout. Ogni giorno una lezione integrale condotta da un trainer per gli amanti del fitness ma anche dello yoga per rilassarsi oltre che mantenersi in allenamento o di zumba per mettere insieme ginnastica e danza. Anche questo è un buon modo per poter stare bene in auto isolamento e quarantena. Grazie.